buongiorno dal rifugio Stato Brado siamo stati ospitati questa notte dalla Silvia e la bellezza di questo posto è che è in piena Lessigna quindi il primo dell'anno non c'è da faticare troppo per andare a cercare una passeggiata nei parratti siamo alla quota giusta perché più sopra ci sono le nuvole e sotto in Pialura ci sono le nuvole anche là quindi siamo in mezzo al paradisimo paradisimo che spettacolo grazie a tutti